Mi chiamo Riana Sestili, ho una bellissima famiglia, ho tre figlie, ho 63 anni, vivo a Roma e mi sono spostata qui a Milano proprio perché ho conosciuto NeoVision. Il mio hobby proprio in assoluto è la lettura e non poter leggere per me è stata una cosa veramente drammatica. Io lavoro in amministrazione da circa 44 anni e ultimamente proprio negli ultimi 3-4 anni non poter vedere bene quello che facevo per me è stato veramente un dolore, ecco veramente un dolore. Ho cominciato a trovare gli occhiali cosiddetti office che però mi duravano due mesi neanche e poi dovevo cambiarli e tornare e vedere di nuovo di modificare le distanze. Se non capisci qual è il tuo problema puoi cambiare 10.000 occhiali ma non lo risolvi il problema come non l'ho risolto io. L'importante è non fermarsi soltanto a una valutazione di tipo dell'ottico e basta. Poi ci sono dei problemi che deve assolutamente valutare il medico, non può valutarlo l'ottico. Come è stato nel mio caso perché io mi sono ritrovata ad avere una pressione oculare alta, l'ho sottovalutata e quindi sono andata peggiorando. Mi sono messa alla ricerca di diciamo di un centro adeguato e tramite un amico di mia figlia che abita a Milano ho conosciuto NeoVision. Già dalla prima visita che ho fatto in Corso Vercelli. Io l'ho definito in questo modo la preistoria e il futuro. Veramente c'è una cosa che ho detto subito dall'inizio. Sono arrivata a Milano in questo centro e ho fatto tutto di tutto e da lì ho conosciuto qual era il mio problema cioè il glaucoma. Purtroppo già abbastanza avanzato in tutti e due gli occhi anni. Ma di glaucoma nessuno mi aveva mai parlato. Abbiamo scoperto anche la cataratta e a questo punto la dottoressa mi ha fatto una proposta. Mi ha detto visto che comunque la cataratta va fatta perché se non togliamo questa lei non vedrà mai bene perché anzi in sei mesi mi era peggiorata tantissimo. Dice quindi a questo punto visto che comunque lei lavora ancora con il computer così tante ore al giorno, le piace leggere, è una persona ancora attiva, proviamo se lei è d'accordo a fare questo intervento con la sostituzione del cristallineo multifocale. E io l'ho fatto e mi trovo benissimo. Quando la dottoressa Norcia mi ha consigliato l'intervento ero un po' titubante. Associavo sempre il discorso della cataratta alle persone anziane. Però poi quando lei mi ha detto guardi che c'è questa opportunità che lei può togliere gli occhiali. Può lavorare senza le lenti. Ci ha riflettuto bene ho detto sai che c'è? Mi sento ancora abbastanza giovane da poter affrontare questa cosa adesso subito. E ho deciso e ho preso appuntamento e l'ho fatto. E ho fatto nel giro di una settimana tutti e due gli occhi. Ero tranquillissima. Poi sono entrata in questo ambiente bellissimo tutto organizzatissimo super pulito. E' andata benissimo. Dal giorno stesso in cui ho fatto il primo occhio non ho più usato gli occhiali e ho visto subito bene. Secondo occhio ancora meglio. Ah non ho avuto assolutamente dolori non ho preso antidolorifici. Io sono stata proprio bene non c'è avuto nessun problema. Eppure il fatto di dover avere questi occhialini attaccati al collo quindi tutti quelli che hanno gli occhialini attaccati al collo sono individuati come sei anziano o comunque hai una certa età. Per cui da un po' fastidio questa cosa. Poi ogni volta che devi leggere o che devi fare qualcosa prendi gli occhiali e mettiti il telefono. Qualsiasi cosa insomma. E non averli avere più questo questa continua bisogno di prendere e mettere agli occhi prendere e mettere agli occhi e leggere tranquillamente pure le cose piccole ma proprio piccole piccole piccole. E' una cosa eccezionale mi sembra veramente mi sento più. Oggi ero a pranzo e l'amico di mia figlia che era a pranzo con noi mi ha detto vedeva che leggevo il menù in modo spigliato e senza nessuna difficoltà mi ha detto veramente l'ha fatto bene.